Sì, abbiamo fatto un gran boiannelle, non ci crediamo ancora, abbiamo giocato molto bene queste partite, devo dire, bravi tutta la squadra, veramente abbiamo espresso secondo me in questa parte finale, dai quarti, semifinale ieri e oggi, una palla a volo di altissimo livello. Sì, assolutamente siamo state molto brave, non lo so, mi sembra strano e forse realizzo tutto domani, che è finita questa BNL e che abbiamo vinto, sono felicissima per la squadra perché abbiamo fatto un gran lavoro.